Un anno fa la morte del professor Raffaele Colapietra, a 92 anni, il giornalista Giustino Parisse oggi sul centro ha voluto ricordare questo illustre aquilano, intellettuale raffinato e storico che con le sue opere ha dato un contributo enorme alla storia del meridione d'Italia. E la storia la fece anche dopo il sisma, quando si rifiutò di lasciare la sua casa in via Pescara e i suoi gatti, caso che fini sulle tv nazionali. Perché il professor Colapietra per lungo tempo è stato l'unico abitante del centro storico, ma in questo anno nelle istituzioni, nelle associazioni culturali locali lo hanno ricordato. L'unico evento a fine novembre del 2023 all'università, grazie alla casa editrice Texas di Edoardo Caroccia. La deputazione storia patria e i suoi amici però non lo hanno dimenticato, tant'è che sui social si è diffusa la proposta di realizzare una casa museo dove è vissuto, un luogo di cultura per tutti. La sua seconda casa era l'archivio di Stato. I suoi amici in estate organizzeranno anche un evento per ricordarlo. La speranza è che pure le istituzioni si ricordino di un uomo che ha segnato con i suoi scritti le vicende del paese. Il giornalista Giustino Parisse spiega perché Colapietra non era molto amato dagli aquilani. Il professor Colapietra non era molto amato dagli aquilani, soprattutto perché lui non le mandava mai a dire quello che pensava, lo diceva. Io ricordo soltanto alcuni episodi. Lui sin dall'inizio aveva definito il corteo della perdonanza una carnevalata. Non gli piaceva la festa delle male lingue, anche se lui secondo me ci stava benissimo perché lui aveva una sottilissima ironia e soprattutto amava molto la buona tavola. Non dava giudizio certamente lusigniere sugli amministratori comunali e nemmeno su tutti gli amministratori comunali, non solo questi ultimi. E nemmeno su alcuni intellettuali della città. Non amava il mondo accademico. Lui ce l'aveva con l'università perché lui non era stato mai nominato professore ordinario all'Università di Salerno e questo lo portò poi a lasciare. Detto questo però, come dire, stiamo parlando di un grandissimo intellettuale, di un intellettuale di cui la città dovrebbe menare comunque vanto, al di là adesso delle antipatie che ci possono essere. Quindi credo che prima o poi le istituzioni, dal comune, alla provincia, alla regione, a chiunque possa essere interessato, un riconoscimento sia necessario.